Un omaggio al grande Totò, dal film un turco napoletano, Carme Carme. Ora stanno la primavera, metto a sudere in tuo cuore, con asma e fa l'amore, con un fuoco e cilentù. Quando venga una figlia, muovo sanguin da lui, poveri tre manette nocce, non capisco niente più. Carme, Carme, tu suono ma basta, ma ci sono tre. Carme, Carme, il sogno è buona basta, va accontente a tutti e tre. Carme, Carme, chi non lo faccia posto, e tu che sei a sapere? Carme, Carme, chi non lo faccia posto, posto, posto come qui? Per ogni uomo o tre e moglie, se vi scritti in due giornali, una legge speciale, faccia ranna e sai perché? Perché, perché? Perché l'uomo ne so poca. Ma io sono qui che canta, non tu? Perché l'uomo ne so poca. Arrivato il gigante nella montagna, è arrivato il gigante. Mentre la donna è in abbondanza, ma non voglio fare una panza, una di due a fuori di. Carme, Carme, tu suono ma basta, ma ci sono tre. Carme, Carme, i sogni è buona basta, va accontente a tutti e tre. Carme, Carme, i non lo faccia posto, e tu che sei a sapere? Carme, Carme, i tenga a capa tosto, tosto, tosto come qui? I tenga a capa tosto, tosto, tosto come qui? I tenga a capa tosto, tosto, tosto come qui? E' vero! Abbiamo fatto un omaggio al grande Antonio De Curti, il se totò. Grandissimo. Buonasera. Buonasera a lei, ci ritroviamo di nuovo. Ci ritroviamo. Ma siete moltiplicati. Eh, diciamo siamo in tre. Linea verde. Siamo in tre. Viene verde. Avete inserito i giovani. No, no, scopre sì. Avete inserito i giovani e i meno giovani. Noi siamo una volta scorsi in economia, noi siamo tutti in tre perché diciamo che è un po' mia, è un po' mia, è un po' mia, tre e mezzo diciamo, tre e mezzo, domanda quattro. Ma sono magnifici, sono bellissimi, bravissimi, gli artisti della posteggia, della posteggia napoletana, i menestrelli, posteggia napoletana che resta ancora una delle perle napoletane, delle attrazioni napoletane, anche di esportazione. Noi siamo andati a scupoliero, a scupoliero, a scupoliero, a scupoliero, il ciondolino, il ciondolino, noi ci vediamo pure alla fine, come al solito ci facciamo una ghiacchierata pure alla fine. Sì, alla fine sarà, abbiamo un dito di carosone, ma essi ce lo trovano, abbiamo portato il portone a mano, almeno la prima volta. E speriamo, speriamo di continuare così, però i loro nomi non ce li avete detto. Ah, sì, senza altro, non dimenticato, il maestro Tony Graziano, il maestro Cino Valtone, mi sono conosciuti, io per te cacciato, è il mio figlio, il piccolo Emanuele. Un saluto al mio confezionato, grazie. Come no, grazie. Emanuele, approfittiamo anche per salutare i tanti napoletani e italiani all'estero che ci stanno seguendo, grazie al satellite. Ripeto, canale 890 su Sky e c'è il numero di telefono in sovraimpressione per informazioni. Saluto anche, e lo faccio anche a nome di Nello Dierna, anche perché salutavo un carissimo amico Peppe, che conosciamo bene, che ci sta seguendo. Non scappate però, perché adesso, adesso parliamo del campo, del terreno di gioco del San Paolo. È colpa loro. Sì, no, non è colpa loro, non è colpa loro. Sentiamo cosa ha detto Mazzarri a proposito del terreno di gioco e poi parleremo con una persona che di terreno di gioco e di prati verdi, se ne intende, se ne intende tanto. Mazzarri, sullo Stadio San Paolo.